Tanto grazie a tutti, benvenuti a tutti. Viva! È la prima parte di questo evento che va a commemorare gli eventi a giorni buoni. Logicamente sono un po' emozionato, mi fa piacere di avervi qua. Facciamo questo giro che veramente sono 45 chilometri, Rosinetta, Pieretta, si scende. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.